Ciao, benvenuto nel canale Momento in Cristo. Oggi ho un messaggio molto speciale per te, direttamente da Dio. Dio ha un messaggio per te oggi. Si rallegra in ogni dettaglio della tua vita e non ti deluderà mai, perché ti tiene per mano. Indossa l'armatura di Dio per poter resistere agli attacchi del diavolo, per tutti coloro che cercano la protezione di Dio. Egli è la nostra protezione, un rifugio sicuro. Nei momenti di bisogno, state dunque sempre allerta, perché non sappiamo quando verrà il Signore. Dio ti libererà da ogni male e ti guiderà nel suo regno celeste. Possa tutta la gloria essere per lui ora e per sempre. Sebbene i giusti abbiano molti problemi, il Signore li libererà tutti. Ricorda sempre che Dio è fedele e ti rafforzerà e ti proteggerà dal male. Il messaggio che Dio ha per voi oggi è di amore, speranza e rinnovamento. Sa che stai attraversando momenti difficili e vuole che tu sappia che è lì per te in ogni fase del percorso. Dio vuole che tu sappia che non importa quanto difficili possano sembrare le cose in questo momento, c'è sempre una luce alla fine del tunnel. Sta lavorando dietro le quinte per trasformare la tua situazione e darti la forza di cui hai bisogno per superare le tue sfide. Non perdere la speranza, perché Dio è sempre lì per aiutarti e guidarti. Fidati di Lui e sappi che ha sempre il miglior piano per la tua vita. Ricorda anche che Dio ti ama incondizionatamente e che sei un essere prezioso e importante ai Suoi occhi. Ha uno scopo per la tua vita e sta lavorando con te per aiutarti a raggiungerlo. Che la pace e la benedizione di Dio siano con te oggi e sempre. Se ti è piaciuto questo messaggio, non dimenticarlo. Iscriviti al nostro canale e condividi con i tuoi amici e familiari. Qui troverai i messaggi più potenti di Dio per guidarti nel tuo cammino di fede. Al prossimo!